Praticamente fatta l'operazione per il nuovo mister, Piero Braglia sarà la guida del Campobasso e Lega Pro nella stagione 2024-2025. Non c'è ancora l'ufficialità, si attende la risoluzione del contratto del mister con il Gubbio, ma nei fatti l'accordo è chiuso, salvo stravolgimenti del caso. A dire il vero, lo stesso Braglia avrebbe già indicato dei profili graditi per l'allestimento della nuova rosa dei Lupi. Una scelta, quella di Braglia, che traccia il profilo e la volontà della società stellestrisce di voler ben figurare nel torneo di Serie C. Un totem, una garanzia, un tecnico di grande esperienza con diversi campionati vinti sulle spalle e tante piazze calde vissute nel passato, come Foggia, Taranto, Cosenza, Avellino, solo per citarne alcune. Braglia è un marchio doc che come prima pietra per la nuova stagione nei professionisti non si poteva chiedere di meglio. L'esperienza del mister servirà a tutto l'ambiente, dalla società alla squadra, ai tifosi per un campo basso, che ha tutte le intenzioni di stabilizzarsi in Lega Pro. In attesa dell'ufficialità, la società si muove, come diciamo ormai da giorni, su diversi fronti. Dalle pratiche relative all'iscrizione, a proposito tutto ok per quanto riguarda il passaggio di quote dell'Ascoli da parte di Rizzetta, alla questione relativa allo stadio Molinare. La licenza d'uso garantisce la capienza a 7.500 spettatori. Certo, la piazza e la società invocano l'ampliamento, in particolare con l'apertura del settore distinti, ad oggi visto come un miraggio. Condizioni queste da approfondire in modo adeguato per restituire una capienza maggiore all'impianto di Contrada Selvapiana. Momento di iscrizioni, momento di società a forte rischio. Le due situazioni vanno ormai a braccetto da diversi anni in Lega Pro. Il patron dell'Ecco, appena retrocesso dalla Serie B, Paolo Di Nunno, avrebbe infatti affermato di non avere intenzione di iscrivere il club in Lega Pro. Una condizione tutta da verificare al 4 di giugno, ma al momento la situazione è questa. Si vociferava di una difficoltà del Foggia, ma proprio ieri sera il patron Nicola Canonico ha dissipato ogni dubbio sulla partecipazione dei diavoli rossoneri al campionato di C. Un'altra società a rischio è la Turris. Il titolo è in vendita con il patron Colantonio, la ricerca disperata di nuovi soci per cedere il club. Ricordiamo che in caso di mancata iscrizione, la prima società a subentrare sarà il Milan Under 23, che sulla scorta di Juventus e Atalanta è pronto per entrare con la squadra Bin Lega Pro. A seguire toccherà le società retrocesse dai play-out. Solo a quel punto si potrebbero poi aprire le porte alle squadre di Serie D che non hanno vinto il campionato. Notizie dal torneo. Il Taranto giocherà le gare interne del prossimo campionato a Castel di Sangro, almeno per la prima parte di stagione. Lo stadio di Eacovone, infatti, sarà indisponibile per i lavori in vista dei giochi del Mediterraneo 2026.